Questo è il nostro ringraziamento alle persone speciali che abbiamo incontrato oggi lungo il cammino. Ringraziamo il don di Berceto che ci ha dimbrato le credenziali di cui ci eravamo dimenticati e ci ha fatto soggiornare gratis. Il ciclista francese che arrestando la sua corsa ci ha risolto il problema con la catena che ci bloccava da due ore. Il catarin frangente che sparato dalla bici di Edo ha colpito in pieno il cartello del passo della Cisa passando a 20 centimetri dalla mia testa. Il ragazzo di Parma che è stato a Modena il quale per un po' ci ha fatto dimenticare la mancanza di Zorro. La borraccia di Fred che è caduta a 300 metri dopo il passo della Cisa e che io con buone intenzioni mi sono fermato a raccogliere e appoggiando la mia bicicletta. Tornando ai pedali però mi esplode il cambio. I carabinieri che ho fermato come fosse un posto di blocco per chiedere informazioni. Ringraziamo anche l'host al quale abbiamo fatto così pena che ci ha fatto un prezzo di favore. Ringraziamo il meccanico che in questo esatto momento sta lavorando alla mia bicicletta sempre per colpa del cambio perché domani mattina dobbiamo partire, dobbiamo continuare questo nostro pellegrinaggio. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ringraziamo Ari.